perché vogliamo contestualizzare Arisla, il lavoro che facciamo, in un contesto più grande. Detto questo, come vedete la struttura della giornata è molto semplice, è divisa in sessioni, ogni sessione ha un titolo, quindi i progetti che vengono elaborati e presentati all'interno delle sessioni sono progetti che hanno un filo denominatore comune, poi ne parleremo durante la discussione. La giornata l'abbiamo pensata come introduzione con una lettura magistrale, la lettura della professoressa Piera Pasinelli che insieme ai qui presenti Stanley Appel e Lucy Bruin, che vedete qui sul pacco Mac, che fanno parte del nostro advisory board, Piera ne fa parte e doveva introdurre la giornata con la sua lettura magistrale. Purtroppo Piera ha avuto un problema all'ultimissimo momento, però ci ha mandato la sua presentazione e la registrazione della sua voce, quindi non l'abbiamo qui in presenza, ma la lettura magistrale la facciamo lo stesso, la ascolteremo, vedremo le slide, ascolteremo la presentazione e poi con la tecnologia cercheremo di avere un dieci minuti di colloquio con lei via Skype se ci sono domande per chiudere e poi ricontinueremo con i lavori. Detto questo, detto tutto, insieme al dottoressa Brugin c'è anche il professor Annunziato che ringrazio e che commodera questa sessione con me. Quindi direi partiamo con la lettura magistrale della professoressa Pasinelli. Piera è, come tutti sapete, direttore scientifico della Packard Foundation a John Hopkins ed è professore alla Jeffrey University. Buongiorno, purtroppo sono a Filadelfia. Prima di iniziare vorrei scusarmi di non essere lì presente di persona a parlare del nostro lavoro sulla farmacoresistenza nella SLA. Mi piacerebbe tornare in Italia anche per un breve periodo e soprattutto a Napoli per il primo meeting Arisla, ma per me è stato impossibile quest'anno ed ecco perché sono qui a distanza avendo registrato l'audio su un PowerPoint. Ringrazio gli organizzatori per l'invito a partecipare e anche per aver organizzato questa video presentazione. Vorrei ringraziarvi tutti della pazienza. Senza un laser, senza un pointer vi mostrerò le slide a man mano. Mi è stato chiesto di discutere di alcuni lavori recenti sulla farmacoresistenza nella SLA nel contesto delle sfide che dobbiamo affrontare nel tentare di sviluppare delle terapie efficaci per la malattia. Sfide che continuano a emergere nonostante i progressi che compiamo nel campo, soprattutto nell'individuare i meccanismi della malattia, ciascuno dei quali può essere un target terapeutico potenziale, anche se finora c'è stato poco passaggio alla clinica. Si sa bene che la terapia della SLA è stata deludente finora. Probabilmente per varie ragioni che non si escludono vicendevolmente e di cui si parla spesso in questi meeting. Ancora probabilmente non abbiamo trovato il meccanismo giusto e quindi non ancora individuato nemmeno il target terapeutico più pertinente. Oppure ragioni per le quali la maggior parte dei trial preclinici, se non tutti i trial preclinici svolti finora, sono stati fatti nel modello murino SOD1 che può non essere rappresentativo di tutte le forme del SLA. Quando tentiamo di tradurre i risultati positivi di un trial preclinico murino alla clinica non vediamo effetti perché i pazienti in cui testiamo il farmaco non sono pazienti SOD1. Una terza spiegazione è anche che nella SLA c'è un fenomeno di farmacoresistenza acquisita che è noto in altre malattie come il cancro e l'epilessia farmacoresistente, ma almeno finora sempre ignorato nella SLA. La farmacoresistenza che limita la disponibilità del farmaco nel sistema nervoso centrale. Noi riteniamo che per fare farmaci migliori dobbiamo inibire per la SLA questa farmacoresistenza. sullo schermo vedete un elenco non esaustivo di farmaci deludenti che sono stati testati e anche sperimentati nei topi SLA ma che non funzionano però nei pazienti. Il riluzzoro è nell'elenco. Tornerò al riluzzoro più avanti nella presentazione. Noi lo abbiamo utilizzato come farmaco controllo per dimostrare che la farmacoresistenza è una realtà nella SLA e che è possibile migliorare la penetrazione cerebrale e l'efficacia delle terapie SLA bloccando questo fenomeno di farmacoresistenza. Siamo quasi inciampati su questo concetto di farmacoresistenza per caso circa otto anni fa grazie a un lavoro svolto nel laboratorio di Davide Trotti. All'epoca l'NIH lanciò un'iniziativa per accelerare la scoperta di nuovi trattamenti potenziali per le malattie neurodegenerativi. L'idea era quella di mettere a punto degli essai che coprivano i meccanismi più comuni della neurodegenerazione, l'aggregazione proteica, la morte cellulare, una library di composti bioattivi approvati dall'FDA nel numero di 1.040 cercando farmaci che potessero essere efficaci nel maggior numero di screening possibili per poter fare poi dei trial clinici. Il mio laboratorio è stato coinvolto nel consorzio. abbiamo usato cellule N2A che esprimivano il SOD1. Il laboratorio di Davide ha utilizzato questo assai funzionale in cellule NSC34 per screenare i farmaci che aumentavano la funzione del trasportatore di glutammato EAT2GLT1 che sappiamo si perde nella SLA. Un essai simile a quello generato attraverso lo stesso consorzio che ha portato alla produzione del CEF-Triaxion. Nel laboratorio di Davide sono stati individuati otto composti che potevano essere raggruppati tra gli antibatterici, antibiotici e antinfiammatori, come vedete forse nella slide, composti efficaci nell'aumentare l'uptake di glutammato e tra questi otto composti avevano individuato l'NDGA in rosso che è quello più specifico e più efficace. Decisero pertanto di testarlo in vivo in un trial al pleclinico utilizzando il topolino SOD1 G93A cercando di valutare il coinvolgimento dell'NDGA in vivo in topi controllo, quindi non malati. A sinistra l'NDGA è stato somministrato per via sottocutanea con impianto di pellet, con pellet a rilascio lento di acido noridrato guai eretico e come vedete anche nei topi controllo l'NDGA ha raggiunto il target ed è stato efficace nel provocare una pregolazione cronica e persistente dell'uptake di glutammato per circa 30 giorni come vedete probabilmente nel grafico a destra sullo schermo e si vede anche nei sinaptosomi preparati dal punto spina dorsale, insomma il midollo spinale dei topolini. Però una volta che invece si è nel topolino SLA l'effetto dell'impianto di pellet NDGA non è risultato persistente. La prima pellet è impiantata all'insorgenza della malattia e come nel topo controllo, come vedete nel grafico a sinistra, l'NDGA ha raggiunto il target in termini di uptake di glutammato perché per i primi 10 giorni c'è un aumento dell'uptake poi l'effetto scompare e alla fine l'NDGA non rallenta la progressione di malattia né porta a un prolungamento della sopravvivenza del topolino SLA come vedete nella curva Kaplan-Meier a destra. L'effetto bifasico della funzione del trasportatore di glutammato che vedete qui in questa linea tratteggiata rossa ci ha suggerito che in qualche modo l'NDGA a un certo punto durante la progressione della malattia era espulso, pompato fuori e questo effetto bifasico del trasportatore di glutammato nel contesto della SLA somigliava allo sviluppo della farmacoresistenza che si vede in molti approcci farmacologici, per esempio la terapia oncologica. Questo ci ha portato a mettere a punto degli esperimenti ponendoci questa domanda così semplice, perché fallisce l'NDGA nei topolini SLA? Piuttosto che mettere da parte l'NDGA come terapia in vitro che poi non si mostra così efficace in vivo e passare avanti, siamo tornati indietro per capire se in altre malattie come il cancro e anche nei topolini SLA e forse anche nei pazienti vi potesse essere comunque un meccanismo di dichiarata, acclarata farmacoresistenza nel sistema nervoso centrale che quindi impedisse una farmacoterapia efficace. La farmacoresistenza alla penetrazione del farmaco è un fenomeno ben noto dovuto all'attività del BGP e del PCRP, sono trasportatori che sono qui, li vedete in rosso, che sono espressi dal lato luminale delle cellule endoteliali nella barriera ematoencefalica. Questi trasportatori costituiscono una barriera formidabile alla penetrazione del farmaco e alla sua persistenza nel sistema nervoso centrale, la loro funzione, i loro livelli di espressione controllano l'esposizione di farmaci, di xenobiotici, quindi l'espulsione anche di questi farmaci e di questi xenobiotici nel sistema nervoso centrale. Hanno vari sostrati, hanno strutture chimiche diverse, questi trasportatori devono estrudere dal cervello i cataboliti cellulari che potrebbero essere potenzialmente tossici se si accumulano nel cervello ed evitare la penetrazione di xenobiotici e agenti intossicanti ambientali, ma sfortunatamente percepiscono anche qualunque farmaco come minaccia potenziale e quindi la espellono per l'appunto. PGP e BCRP, e sottolineo che sono quelli più importanti per la SLA, hanno una specificità al suo strato molto ampia. La PGP è un omodimero e il BCRP è una metà della PGP. Tornando alla nostra domanda sulla SLA e la farmacoresistenza, è la domanda perché l'NDGA ha questo pattern bifasico solo nel topolino SLA, abbiamo messo a punto un esperimento per determinare se l'NDGA sia un suo strato potente di qualunque trasportatore. Non ho tempo di passare rassegna ai dettagli di questa diapositiva, voglio solo dimostrare che, come noi ci aspettavamo sulla base dell'esperimento visto qui, a quanto pare emerge che l'NGA è un potente sostrato per la PGP, rafforzando il concetto che l'effetto bifasico dell'NDGA che abbiamo visto solo nei topolini SLA e non nei topolini controllo possa essere dovuto a una funzione mediata dalla PGP che espelle questo farmaco. Quindi questo suggerirebbe che la farmacoresistenza sia responsabile del fallimento dell'NDGA nel far proseguire l'uptake di glutammato e quindi nel mancato miglioramento della sopravvivenza dei topolini SLA. Se è così, a questo punto dovremo aspettarci un aumento graduale, una sorta di accumulo della farmacoresistenza nel corso della malattia nei topolini SOD1 e quindi, e questo è vero, accade così. Vedete, a livello dell'RNA messaggero, una batteria di questi geni trasportatori utilizzando la PCR, abbiamo visto, come vedete nel riquadro A, che c'è una pregolazione selettiva dell'RNA messaggero, del PGP e del PCRP, ma non di altri trasportatori che erano presenti nel R sperimentale durante la fase sintomatica della malattia. Questo è molto importante per il prosieguo e per la struttura dei trial preclinici e clinici. Questa pregolazione selettiva del PGP e del PCR che non si vede nello stadio presintomatico, si vede però nello stadio sintomatico nei topolini SLA. Quindi una pregolazione selettiva, la vedete nel pannello nel riquadro B, è stata anche convalidata dalla QPCR e confermata a livello dei livelli proteici, come vedete qui a destra, nell'analisi Western Blot, nella quantificazione di questa Western Blot. E la pregolazione a livello delle proteine, a livello dei livelli protetici risulta essere selettiva delle aree del sistema nervoso centrale colpite della malattia. Vedete la cortezza cerebrale, l'idolo spinale, ma non il cervelletto. Lo vedete nei riquadri CD e E, vedete ancora la quantificazione negli altri riquadri di questa Western Blot. Questo è uno staining, è una colorazione che dimostra che c'è un aumento dell'espressione di PGP in questi topolini a livello dei capillari, dell'inolo spinale o anche della spina lombare, negli stadi presintomatici ma non sintomatici. Questi sono capillari in cui c'è un aumento selettivo della PGP e PCRP, presumibilmente nelle cellule endoteliali, ma si vede anche qui. E come sapete le cellule endoteliali sono la barriera primaria alla penetrazione di farmaci e xenobiotici, ma c'è anche un'altra barriera costituita dalle cellule parenchimali del sistema nervoso centrale. Quindi andiamo a vedere se questa pregolazione selettiva specifica delle cellule endoteliali dei capillari si trova anche nelle cellule parenchimali a livello degli oligodendotrici, astorciti e forse anche i neuroni motori. Come vedete qui non abbiamo trovato alcun aumento specifico o significativo del PGP e PCRP negli oligodendrociti, negli astrociti o nelle cellule microgliali, forse un po' nei neuroni motori anche se non in modo significativo. Questa aumentata espressione di PGP e PCRP a livello delle cellule endoteliali e nei tessuti cerebrali non si osserva, almeno nel topo, in organi sistemici come il fegato come vediamo qui, dove noi sappiamo che normalmente BCP e PCRP hanno un'alta espressione e regolano il metabolismo dei farmaci. Come vediamo in questa Western Blot e nel grafico di quantificazione accanto non abbiamo visto nel topolino SLA un aumento delle espressioni di PGP e PCRP nel fegato e quindi l'espressione di PCP e PCRP non cambia nella progressione di malattia negli organi sistemici. Non solo c'è un aumento delle espressioni di questi due trasportatori nel SNC, ma la loro funzione che determina la farmacoresistenza aumenta di conseguenza. In collaborazione con David Miller all'NIH, che è un esperto di fama mondiale nei trasportatori di efflusso dei farmaci e di farmacoresistenza, abbiamo provato a misurare i livelli di espressione di funzione di questi trasportatori nei capillari della spina dorsale. Come vedete in alto a sinistra credo, nella diapositiva, vedete la preparazione dei capillari, mentre le figure a destra mostrano questo test, vedete, si determina l'attività che poi viene misurata con l'accumulo luminali di PGP fluorescenti e anche di PCRP e si misura l'accumulo di sostratto con l'analisi alla microscopia confocale e vedete nel grafico in rosso un aumento della funzione di PGP e BCRP ma non di altri trasportatori. Per esempio l'MRP2, che è specifico dei topolini presintomatici e non sintomatici. Questo implica un aumento della farmacoresistenza nel corso della progressione di malattia. L'espressione e la funzione di questi due trasportatori aumenta nella progressione di malattia. Non è però un problema prima dell'insorgenza di malattia, almeno nel topolino. Questo solleva per noi, ed è ancora dubbia la questione, quindi solleva la questione che è importante per la biologia della malattia e anche per le implicazioni che questo fenomeno può avere, nel modo in cui poi mettiamo a punto i trial preclinici nei topi prima e poi anche per l'importanza che questo può avere nel design di trial clinici per i pazienti. Nei prossimi 30 minuti dividerò la mia relazione in due parti. La prima parte passeremo in rassegna alcuni dei meccanismi con i quali questa malattia si sviluppa, i meccanismi di farmacoresistenza grazie al lavoro del laboratorio di Davide Trotti e del mio e poi nella seconda parte vedere come possiamo applicare i nostri risultati al design di trial preclinici e clinici per la SLA. In altre parole, la farmacoresistenza è riconosciuta in altre malattie ma sottostimata nella SLA finora. Possiamo dimostrare che in realtà considerando e bloccando la farmacoresistenza possiamo andare a avere più chance di erogare farmaci al sistema nervoso centrale e mantenerne la concentrazione giusta nel tempo, farmaci che altrimenti sarebbero espulsi dal sistema. Questo è un lavoro fatto nel mio laboratorio in collaborazione con quello di Davide. Per rispondere ad alcune delle domande scritte qui, partiamo dalla prima. Che cosa causa? Qual è il meccanismo che causa l'aumento dei trasportatori di efflusso dei farmaci a livello della barriera ematica, della spina dorsale? Vedete, siccome gli astrociti sono in contatto stretto con le cellule endoteliari della barriera ematoencefalica e comunicano con loro rilasciando una serie di fattori e siccome sappiamo che gli astrociti della SLA partecipano alla malattia rilasciando fattori tossici, il laboratorio di Davide ha avviato una serie di modelli in vitro utilizzando sistemi di co-coltura di astrociti e cellule endoteliali primari partendo con cellule di roditori per studi meccanicistici per capire come gli astrociti nel contesto della malattia e nel contesto della barriera ematoencefalica possono contribuire all'aumento dell'espressione del PCB e BCRP e quindi indurre la farmacoresistenza. Qui vedete un modello di barriera, vedete, vi sono due comparti, vedete, in basso abbiamo gli astrociti, invece, poi oltre la membrana poroso, cellule endoteliali della spina dorsale. Gli astrociti sono trattati in modo da poter trattare per esprimere questa mutazione, quindi sono le controparti del wild type, abbiamo qui indicate nella diapositiva, potete leggere, le mutazioni. Il virus quindi viene rimosso e le cellule endoteliali vengono quindi lasciate in coltura e poi raccolte cinque giorni dopo per l'analisi. Gli astrociti dimostrano un pattern di espressione tipico delle mutazioni legate alla slaccia, un aumento dell'espressione delle PGP nelle co-culture, vedete, dei cellule endoteliali. Questo vale anche per la funzione, vedete, questa è la capacità delle cellule endoteliali di accumularsi, vedete, LD800 che è il sostrato specifico delle PGP. Qui vedete, in questo modello di barriera ematoencefalica in vitro molto semplice, dimostriamo che forse sono gli astrociti che fanno sì che questa farmacoresistenza si sviluppi in questa malattia andando a far partire a livello delle cellule endoteliali l'espressione di alcuni fattori che possono potenziare l'espressione e la funzione di questi due trasportatori in particolare. Noi riteniamo che questo avvenga attraverso dei pathway mediati da NFKB. Grazie al lavoro del nostro collaboratore David Miller sappiamo che molti dei pathway che regolano i trasportatori di efflusso di farmaci nei capillari convergono nell'NFKB. Nel nostro sistema, in effetti, una micromola di inibitore NFKB SN50, ma non la sua controparte inattiva, blocca la pregolazione di PGP mediata dagli astrociti della SLA nelle cellule endoteliali, indicando quindi anche nel contesto della SLA che c'è un aumento di questa farmacoresistenza a livello del pathway di NFKB. Abbiamo ormai molti dati che sono oggetto di una review e che comunque confermano che ci sia questo meccanismo mediato dall'NFKB. In collaborazione con il laboratorio di Davide e con Nicola Smarakatis, alla John Sopis, che ci ha dato le cellule derivate da pazienti, abbiamo avviato questo stesso sistema di passaggio da un pozzetto all'altro, questo sistema in vitro, con sangue umano, vedete, con cellule umane, tessuti umani. Abbiamo cellule endoteliali umane in co-cultura, vedete, con astrociti derivati da pazienti SLA. Volevamo sapere se questa pregolazione di PGP, PCRP sia poi davvero pregnante, caratterizzante, propria della malattia e volevamo studiare e confermare come l'ASLA, in particolare gli astrociti, spingano o inducano la farmacoresistenza in queste cellule e quindi determinare se questa pregolazione di PCB e PCRP sia vera per l'ASLA. Abbiamo usato dei tessuti autoptici, abbiamo dimostrato che sì, la pregolazione di PCB e PCRP è presente anche nella SLA umana. Come abbiamo visto nel topo, la PCP e la PCRP hanno una maggiore espressione nei lisati di spina dorsale di pazienti SLA rispetto a controlli non malati e anche rispetto a controlli di pazienti di atassia Friedrich. Abbiamo qui sette pazienti, cinque sporadici, due familiari, uno dei quali è una mutazione SOD1 e tutti, ovviamente in varia misura, mostrano un'espressione significativamente più elevata sia di PCP che di PCRP rispetto ai controlli. Abbiamo pubblicato questi dati, abbiamo raccolto poi più tessuti da allora, pazienti con vari genotipi e per molti di loro abbiamo potuto confermare questa pregolazione che rimane specifica della PCP e PCRP ma non vale per altri trasportatori, in tutti i casi che abbiamo analizzato finora. Nei pazienti come nei topi, la pregolazione di PCB si vede a livello delle cellule endoteliari nei capillari della spina dorsale e qui siamo nella zona in cui vediamo chiaramente questo capillare da un paziente sporadico che vedete penso in basso, che ha un'espressione maggiore di PCP mentre non c'è alcuna espressione nei capillari controllo che si vedono in vede nei riquadri più alti. Purtroppo l'audio è un po' scadente in questa parte e poiché sembra essere una farmacoresistenza specifica dei tessuti in particolare con gli esperimenti che abbiamo fatto sulla base dei tessuti che erano disponibili abbiamo visto che nell'SNC questa pregolazione è area specific, che cosa intendo? È specifica di un'area, mi spiego, nello stesso paziente che è individuato qui con le frecce bianche credo che le vediate bianche, non c'è espressione di PCB nei capillari dell'ippocampo che dovreste vedere in basso mentre non c'è segnale, vedete al di sopra del background non c'è segnale per niente e perché? Vedete, mentre nello stesso paziente vedete i capillari dell'aspina dorsale esprimono livelli elevati di PGP rispetto ai controlli, questi dati dimostrano che almeno in questi pazienti un'elevata espressione di questi trasportatori sembra essere proprio specifica di un'area soltanto e altre aree come l'ippocampo che non sono molto colpite dalla malattia non sembrano coinvolte Qual è la funzione quindi di questi trasportatori? Cosa produce questa farmacoresistenza? Che cosa sappiamo dei meccanismi di farmacoresistenza? Per rispondere a queste domande siamo dovuti ritornare a un sistema in vitro Abbiamo qui sempre però tessuti derivati da pazienti vi ho mostrato già prima, abbiamo usato quindi co-culture di cellule endoteliali umane vedete con astrociti, SLA vedete, vediamo che le cellule endoteliali esposte agli astrociti, SLA sono più attive nell'espellere, nel respingere i nostri sostrati uno in particolare, l'LD800 rispetto ai controlli come dovreste leggere nel riguadro in basso mentre si vede abbiamo invece un effetto diverso nell'altra co-cultura c'è una diminuzione significativa della permeabilità l'LD800 in questo sistema e tornerò su questo dopo PGP, PCRP bloccano questa funzione e hanno un effetto di reversione della permeabilità dell'LD800 in questo sistema gli astrociti dei pazienti portano a un'elevata espressione di PCP come abbiamo visto nelle co-culture di rodutori vedete cellule endoteliali, vedete, qui possiamo vedere che queste cellule endoteliali queste co-culture con gli astrociti SLA e la loro espressione più elevata di PCP vista in rosso qui rispetto alle cellule endoteliali che sono in co-cultura con astrociti controllo purtroppo l'audio è un po' scadente in questa parte e qui vedete come abbiamo visto nei roditori c'è un pathway immediato dall'NFKB vedete le condizioni del mezzo inducono una localizzazione nucleare dell'NFKB nelle cellule endoteliali che è indicativa di un'attivazione dell'NFKB e quindi di un pathway attivato dall'NFKB ed ora tornando alle prime diapositive con questo elenco di farmaci deludenti nella SLA perché questo ci interessa? ebbene noi pensiamo che ci interessi perché possiamo provare a capire come si sviluppa la farmacoresistenza nella SLA e se ci riusciamo possiamo mettere a punto delle strategie terapeutiche che attraverso l'inibizione della farmacoresistenza possano potenziare l'efficacia di terapie SLA in pazienti non rispondenti e quindi forse potremo migliorare la biodisponibilità e quindi anche l'efficacia di queste terapie per la SLA e come proof of concept dell'idea iniziale che forse è una delle ragioni dei fallimenti dei trial della SLA e che vi sia questa farmacoresistenza acquisita finora sempre trascurata e quindi non studiata e che quindi potesse essere migliorata andando a considerare l'aumento delle PCP e PCRP abbiamo studiato il riluzolo come elemento diciamo come composto controllo e abbiamo scelto il riluzolo per tre ragioni principali uno perché è l'unico farmaco approvato per la SLA dall'FDA seconda perché il riluzolo è un sostrato di PCP e PCRP e altrettanto è importante la terza ragione è stato dimostrato che il riluzolo che in certa misura è efficace nel primo anno di trattamento nei pazienti andando a rallentare la progressione di malattia del 67% perde poi la sua efficacia iniziale gradatamente man mano che la malattia va avanti calando al 20% di rallentamento della progressione di malattia nel secondo anno di trattamento forse ovviamente non lo sappiamo ma questa è la nostra ipotesi di studio perché una volta che si insedia la farmacoresistente il riluzolo come qualunque sostrato PCP e PCRP viene espulso dal cervello dalla spina dorsale abbiamo usato il riluzolo nel topo SOD1 per porci questa domanda l'inibizione farmacologica di PCP e PCRP potrà potenziare l'effetto di riluzolo nel topo SLA abbiamo utilizzato l'elacridar che è un inibitore di PCP e PCRP come composto per testare queste ipotesi nel contesto del topolino SLA abbiamo deciso di avviare il trattamento all'insorgenza per due ragioni sostanzialmente una perché PCP e PCRP sulla base dei dati che vi ho mostrato prima e anche molti dati di laboratorio come sappiamo non intervengono prima che parta la malattia e la seconda ragione è per simulare nella misura del possibile nel topo il protocollo di trattamento che si userebbe in un paziente umano il riluzolo è stato somministrato quindi nel mangime e l'acridar invece in pellet lento rilascio sotto cutane i topolini sono stati suddivisi in quattro gruppi o no tre nella slide in quattro nella realtà quattro gruppi nella realtà il gruppo uno nessun trattamento ma con impianto di pellet placebo sempre sotto cutane ovviamente si interviene per impiantare i pellet ogni dieci giorni poi l'altro gruppo è l'acridar il quarto gruppo sia riluzolo che l'acridar e poi nei topolini abbiamo misurato varie cose tra cui la sopravvivenza che è l'outcome di cui poi vi parlerò fra breve prima di passare ai risultati di questo trial preclinico è molto importante ricordare e fare anche un passo indietro ricordando che in questi topolini come è stato dimostrato anche da altri ricercatori e noi lo confermiamo qui in questa diapositiva c'è una perdita progressiva vi sono perdite dalla barriera ematoencefalica c'è una permeabilità diciamo progressiva sodioflorescenza c'è un aumento di questa florescenza il che suggerisce una permeazione maggiore dei composti anche riluzolo e un allentamento delle giunzioni tra le cellule endoteliari e la barriera ematoencefalica ma come in altre malattie la pregolazione dei trasportatori di efflusso del farmaco come pgb e pcrp che noi sappiamo essere vera nell'asla può ovviare a queste perdite espellendo più farmaci anche il riluzolo di quante non sarebbero possibili e questo si vede in questo esperimento fatto nei topolini con l'LD800 che come vi mostravo prima è un sostrato della pgp e che non si accumula ma anzi diminuisce nel decorso della malattia nei topolini sintomatici rispetto a quelli presintomatici confermando nuovamente che nonostante l'aumento delle scienze della perdita della barriera l'aumento di espressione della pgp grazie alla malattia poi la sovrasta in qualche modo la annulla e quindi anche se pensiamo che il riluzolo o qualunque farmaco possa entrare facilmente nel cervello alla fine questo non avviene per via di questa farmacoresistenza acquisita che quindi pompa fuori espelle questi farmaci potenziali e forse anche il riluzolo ecco perché quindi quando misuriamo la concentrazione di riluzolo nella spina dorsale di questi topolini vediamo che c'è un aumento della penetrazione di riluzolo dai topolini presintomatici a quelli sintomatici come vediamo a sinistra in rosso questo è stato confermato in uno studio indipendente non pubblicato della Biogen subito dopo l'uscita del nostro paper perché dimostra che c'è una diminuzione graduale dell'esposizione del SNC a riluzolo nel topolino SOD1 con la progressione di malattia e che l'esposizione totale del riluzolo si riduce significativamente nei topolini presintomatici no nei post sintomatici si corregge la professoressa rispetto a quelli presintomatici anche se come vedete in basso a destra il livello plasmatico di riluzolo non cambia quindi questo indica che con la progressione di malattia la farmacoresistenza fa sì che vengano rese impossibili delle concentrazioni terapeutiche di riluzolo e dimostra anche che se facciamo studi prima dell'insorgenza della malattia e in topolini non malati ovviamente non cogliamo questa resistenza questa farmacoresistenza e quindi finora abbiamo mai avuto l'opportunità di mettere a punto delle strategie che tenessero conto di questo fenomeno tenendo a mente questo abbiamo reclutato topolini nel trial preclinico con riluzolo e l'acridar per arrestare la farmacoresistenza abbiamo dimostrato che l'elacridar non ha alcun effetto sulla sopravvivenza come vedete nella curva Kaplan-Meyer in alto a sinistra l'elacridar non influenza i livelli di espressione del trasportatore PGP e questo vale anche per il PCRB nella Western Blot in alto a destra ma che anche se l'elacridar non influenza l'espressione del trasportatore di PCB blocca la sua funzione perché come speravamo provoca un aumento della penetrazione di riluzolo nella spina dorsale di questi topolini come si vede nel grafico a sinistra in basso e a destra vediamo che un cotrattamento con riluzolo e dell'acridar non è epatotossico quindi non è tossico il cotrattamento ma come ci si aspettava porta un aumento della penetrazione dei tessuti di riluzolo e rallenta significativamente la progressione di malattia del 13% rispetto all'effetto del riluzolo da solo può prolungare alla fine anche la sopravvivenza in modo significativo e migliorare anche l'efficacia del riluzolo come vediamo nella curva verde non solo vediamo un prolungamento della sopravvivenza ma bloccando i trasportatori con le lacridar e aumentando la concentrazione cerebrale di riluzolo vediamo anche un miglioramento funzionale nel topolino vediamo che c'è un aumentato potenziale di azione a livello muscolare vedete la linea verde vedete rispetto a topolini trattati solo con riluzolo vedete c'è una c-map prolungata nel decorso della malattia inoltre il comportamento il co-trattamento con le lacridar migliora anche il comportamento nella malattia con una maggiore forza muscolare degli arti posteriori e anche dei neuroni motori che vengono preservati almeno a 140 giorni come vedete nel grafico a destra e anche nelle foto in basso concludendo i nostri dati dimostrano che nella SLA c'è un aumento della farmacoresistenza acquisita c'è un aumento dell'espressione e della funzione cosa molto importante di due principali trasportatori del farmaco PCB e PCRP a livello della barriera metencefalica abbiamo anche dimostrato che questa appregolazione porta a una farmacoresistenza che non si può più ignorare nella SLA che limita la penetrazione di potenziali farmaci nel sistema nervoso centrale e noi pensiamo di aver dimostrato questo usando il rilozzolo come composto rappresentativo in questi studi preclinici che vi ho appena illustrato che vi ho testemostrato questi dati danno luogo ad alcune considerazioni che a nostro avviso sono fondamentali nel design di trial sia preclinici che clinici data l'ampia specificità di PGB e PCRP e siccome molti farmaci sono sostrati di questi due trasportatori e sulla base dello studio con il rilozzolo non dovremmo forse riconsiderare alcuni fallimenti terapeutici andando a considerare che probabilmente questo fallimento non sia dovuto a un target sbagliato o alla qualità del farmaco e non perché il topolino SOD1 non sia un buon modello ma forse perché non abbiamo considerato durante il design dello studio la possibilità di bloccare la farmacoresistenza e siccome nei trial preclinici nei topolini noi non lo abbiamo rilevato perché cominciavamo troppo presto quindi non abbiamo potuto ritardare così l'insorgenza non abbiamo avuto davvero l'impatto sulla progressione di malattia pur prolungando in qualche modo la sopravvivenza ma in realtà l'obiettivo vero sarebbe quello di avere un impatto reale sulla progressione di malattia abbiamo anche imparato appreso che in studi futuri invece di usare i topolini non strangenici dovremmo pensare a usare topolini SLA valutando attentamente la penetrazione del farmaco nel sistema nervoso centrale nel contesto della malattia forse dovremmo applicare queste regole anche ai pazienti SLA noi sappiamo che le società le aziende farmaceutiche vanno a verificare questi dati e negli studi che faremo in futuro dovremo considerare la farmacoresistenza applicare questi principi ai pazienti SLA ai topolini SLA per poter andare a trovare il target giusto e per andare a mirare questo effetto che si osserva solo se si usano appunto questi campioni e non i topolini trasgenici e riluzolo non è il blockbuster ormai è chiaro quindi possiamo forse usare riluzolo come composto confronto come biomarcatore anche nei pazienti per dimostrare che se possiamo inibire PGP e PCRP forse possiamo anche misurare un aumento una maggiore concentrazione di riluzolo più prolungata nella progressione di malattia e ovviamente questi studi di proof of concept fatti con il riluzolo aprono tutta una possibilità di andare a potenziare l'efficacia di nuovi farmaci che sono decisamente migliori rispetto al riluzolo come accaduto nel cancro noi sappiamo che la chemioterapia non è efficace alcuni chemioterapici non sono efficaci se non sono dati in combinazione con degli inibitori dei trasportatori del flusso del farmaco anche in altre patologie in altri farmaci non sarebbero stati messi sul mercato se la loro efficacia non fosse stata potenziata da un'inibizione degli inibitori dei trasportatori del flusso del farmaco quindi vi ringrazio dell'attenzione per aver accettato questa videopresentazione ringrazio poi coloro che hanno effettivamente svolto il lavoro in particolare i membri del laboratorio di Davide Trotti i cui nomi sono mostrati in diapositiva vorrei ringraziare anche i miei collaboratori anche i loro nomi sono in diapositiva che hanno poi fornito i tessuti e anche gli sponsor le agenzie di finanziamento in particolare DOD MDA e Target ELS grazie dell'attenzione